Per me la sincerità è aprirsi completamente a un gruppo di persone, anche ad una sola persona dipende, senza aver paura di avere un giudizio negativo o che non ci possa piacere e purtroppo non credo che esista più perché comunque anche partendo dal fatto che noi tentiamo di truccarci in modo da mascherare i difetti che abbiamo eccetera, sì è molto raro o comunque anche in forme lievi è matta. La sincerità è quando non hai problemi a parlare con qualcuno di quello che ti senti di parlare. Per me la sincerità è la base di quello che è il rapporto umano tra le persone perché se manca rispetto, manca tutto secondo me, la sincerità è la cosa più bella che una persona può avere perché quando c'è penso che tutto il resto sia abbastanza superfluo. Se esiste ancora la sincerità? Se esiste ancora secondo me sì, purtroppo magari in meno rispetto a una volta, però secondo me alla fine sotto sotto qualcosa di buono c'è sempre insomma. Ok, allora la sincerità secondo me esiste, però le persone sincere si possono contare sulle ditte delle mano. E cosa intendi per sincerità? Sincerità è quando delle persone si dicono quello che effettivamente pensano e proprio come sta senza tanti giri di parole o... oppure fare tipo... che ne so... si, sortefuggi, paragoni, se una persona non... qualcosa che non va glielo dici proprio in faccia. Costo di illuminare un'amicizia, però se l'amicizia è vera non si rovina. Grazie mille. Niente. Grazie. La sincerità per me è bruciare e dirlo alla mamma. Esiste ancora la sincerità? Ma finché bruci sì. Grazie per l'attenzione. Arrivederci! Grazie. Grazie.